Pescono in Italia le denunce per reati con numeri che superano i livelli pre-Covid. Lo dice il nuovo indice della criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore in Veneto, è Venezia, la città più insicura. Il capoluogo lagunare supera Napoli tra le province per il maggior numero di denunce ogni 100.000 abitanti. Nicola Accardo. Con 4.825 denunce ogni 100.000 abitanti, quella di Venezia è la nona provincia d'Italia per indice di criminalità. La superano Milano, Roma, le altre grandi città del nord, anche Prato e Imperia. Ma nella speciale classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Venezia è paradossalmente davanti a città come Napoli e Palermo. Sono milioni e milioni di turisti ogni anno e quindi i fenomeni, ma anche quelli più reclattanti, sono quelli dei bosseggi. I bosseggi si rivolgono in gran parte ai turisti e quindi diciamo che su questo c'è un'attività di prevenzione molto consistente da parte delle forze dell'ordine. Venezia è quinta in Italia per furti denunciati e addirittura seconda per bosseggi. Ma non è soltanto il turismo nel capoluogo a incidere, visto che il 46% delle denunce si distribuiscono tra gli altri comuni. La città metropolitana è quindicesima per denunce di violenza sessuale, 114 in un anno, ed è tredicesima per rapine e anche per truffe e frodi informatiche. C'è anche una sensibilità da parte della popolazione che induce a presentare sempre più denunce. Questo fatto di presentare molte denunce porta anche gli indici ad essere modificati. Io considero la denuncia come un fattore estremamente positivo. Le denunce fioccano invece per fatti di spaccio di stupefacenti a Padova, al terzo posto in Italia in questa categoria, dietro soltanto alla Spezia e a Roma. A Verona, ventiduesima, per indice di criminalità generale preoccupano i dati su furti e rapine. Bene come ogni anno Belluno e Treviso, che è terz'ultima. Soltanto due province in Italia sono più sicure della marca, Potenza e Oristano.